Le sezioni statiche di Swyte ti consentono di caricare contenuti personalizzati sul tuo sito, indipendentemente da ciò che posti sui tuoi social collegati. Sono sezioni che, in pratica, non subiscono modifiche quando vengono pubblicati nuovi contenuti sui tuoi social e, allo stesso tempo, utilizzandole, non andrai in alcun modo a modificare i tuoi profili o account sui social network. Per modificare i contenuti statici del tuo sito, una volta loggato a Swyte, accedi alla gestione del sito. Clicca su Modifica sito, in alto a destra, e poi su Sezioni. Ti comparirà il menu con tutte le sezioni disponibili per il tuo tema. Le sezioni statiche disponibili sui vari temi sono Che cosa offro? Ideale per elencare una serie di servizi. Partner? Pensata per poter elencare i propri partner caricando il loro logo con il link. In evidenza? Pensata per mettere in evidenza un'informazione con del testo e una foto. Chi siamo? Ideale per offrire una panoramica di un team di lavoro. Per attivare o disattivare una sezione, ti basta cliccare sull'icona a forma di occhio che cambierà colore di conseguenza. Seleziona la sezione che desideri modificare, quindi esegui le modifiche di formattazione. Una volta modificata una sezione, ricorda di cliccare su Salva prima di tornare indietro o di chiudere il sito, se vuoi salvare la modifica.